Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati nell'angolo di Claudio Oggi proveremo Calippo Linux, l'abbiamo rinominata così e per sto video la chiameremo Calippo Linux Ovviamente parliamo di Cali Linux, io e il signor Dennis Buongiorno, quanto tempo, ormai sono invecchiato, buongiorno Oggi parliamo appunto di Calippo Linux Nella fattispecie mi sono reso conto che non ve ne avevo mai parlato Avevamo visto insieme Ubuntu qualcosa, ora mi sfugge Predator Ecco, che vi lascio qui sotto in descrizione Questo è il sitarello di Cali Linux, come vedete anche il signor Dennis può muovere il mouse Qua c'è la pagina di download, Dennis, interessante perché vanno a dividersi in immagine raccomandata per VirtualBox Ah, Virtual Machine E poi ci danno anche le altre opzioni, ARM, Mobile Ma quindi esiste VirtualBox, è una alternativa valida Ho scoperto che esiste e la considerano anche loro Io ho scaricato questa, nella versione 64 bit Anche perché non ho intenzione di fare una macchina virtuale a 32 bit E con Torrent ci sta, diciamo con la mia linea cacchettica, una ventina di minuti, una cosa del genere 3 giga e 9 di ISO Poi ragazzi, nel sito trovate tutta la documentazione del caso Sia per l'installazione che ora vediamo, tanto è la solita cagatella di Debian Perché si basa su mamma Debian Ma più che altro, qui c'è un sacco di roba nella documentazione Perché questa qui è una distruzione legata al pen testing Quindi al penetration testing Ovvio che non è una distruzione adatta È una distruzione adatta per l'utente comune Soprattutto perché Carly Linux, una versione con le default Mi fa accedere con l'utente root Quindi voi dovete, perché comunque Per utilizzare una distruzione di questi tool Serve del default l'utente root Quindi è ovvio che lo potete utilizzare Per navigare su YouTube, su Google Per fare le cose Ecco, non si può perché È un problema È una distruzione di lavoro Ma poi si vede anche la documentazione Guardate qua La sconsiglierei Qua ci sono tutti i tool praticamente messi a disposizione da Carly Linux Cioè gira la testa nel vederli Potete anche cercare gli eventuali anche corsi Qui la community di supporto, Discord, eccetera Io direi di passare, signor Tenis, direttamente a... Ah, peraltro, ci sono anche corsi ufficiali per questo distro Ci sono anche corsi ufficiali Con tanto di attestato, di partecipazione O per chi vuole pagare Anche eventuale certificazione di pagamento per il pen testing Quindi non è una roba così piccola, ecco Allora, allora Qua abbiamo... Vabbè, ho scaricato la ISO praticamente completa Facciamo installazione grafica, dico tanto Anche se immagino che per utilizzarla al meglio Dovresti avere sicuramente la certificazione LPI Quella per l'utilizzo del terminale Per l'utilizzo di Linux di livello avanzato Almeno dal PI 2 Quindi almeno il secondo livello Diciamo che serve una buona base Io non ho alcuna certificazione al riguardo Quindi mettiamo lingua, non lo so, italiana A questo giro No, metti inglese Qua metti proprio tu l'inglese Eh, non mi rompere i coglioni Non mi rompere i coglioni Aspetta, aspetta Allora, va bene, va bene Facciamo inglese Per la felicità del signor Dennis Mettiamo spagnolo Ok Poi metti italiano-svizzera Come tastiera Non paghiamo l'IVA Ok C'è pure l'ambulanza A testimoniare il tutto Allora, qua Devo mettere la tastiera-svizzera Così poi bestemmiamo Certo Svizzera Se tu cerchi Svizzera In mezzo inglese Svegli No, svegli No, no Va benissimo la tastiera italiana Rompiamo i coglioni Italiano Ok Eh no ragazzi Il discorso del paese svizzera È un piccolo trucchetto Su Instant Gaming Ma non stiamo qui A dare le perle ai pochi Ma non dire queste cose Che c'è il quadro di finanza che ascolto Scusami Perché Guarda il finanza Se senti questo video FBI Open up No, stavo dicendo Senza ombre di dubbio Dico Allora, no, no Hostname Aspetta Aspetta Vai indietro Hostname Faccia lei Faccia lei Signor Deiss Dico Ha pieni poteri Disgrazionale Allora Configura di network Configura di network Ecco Vedi Siccome Si basa su un mamma Debian Si è spappolato Allora Qui ci mettiamo Ecco Ho paura Come nome del nostro pc Nella rete Ci mettiamo Raccomando Vediamo un po' C'è sacchiotto Dai C'è sacchiotto È molto inclusivo È il cesso piccolino Ok Io pensavo fosse un cesso per gli orsacchiotti Però Vediamo un po' Eh però signor Deiss Dico Non è che abbiamo tutta la vita qua Ma io che cazzo Ma io che cazzo Ne so Ma io che cazzo Ne so Scusa Ok Lei A posto Perché finisce sempre tutto in merda Io non Come Claudio Neno Io già mi leggo I commenti Eh sì Ma ci vuole Serietà Calli Linux Mi sembra Fassi Vedere come si configura Il ca Parla bene E usa l'educazione È chiaro Di questa cosa qui Allora Enter full name Se volete Una consulenza C'è l'Iban Sotto Sotto Non vedo Nei commenti C'è l'Iban Sai che mi hai dato un'idea Anziché il link Della donazione Metto Direttamente l'Iban E così Ne frumisco Il mio fru Mi manda una mera mail Mi dice Guarda Ho bisogno del consulenza T'ho pagato Eh ho già bonificato Vedi bravo Non ho un utente Ti prego Mettine uno semplice Cioè Non facciamo Sicuramente Frugolatore Bravo Video sempre molto inclusivo Attenzione Esatto Ok Vabbè Account User name Account Struccuratore Dai facciamo La faccia Va bene Bello ridondante La password Mi raccomando Metti qualcosa di semplice Dico 1,2,3,4 1,2,3,4 Tra sicurezza Noi siamo Bravo Noi della sicurezza Ce ne freghiamo Altamente È sempre una bella idea Dare l'accesso Su Anidesk Ragazzi Io ve lo straconsiglio Un attimino 1,2,3,4 Ok Per essere proprio Tra l'altro Io vi ho messo La password Bello Degutente Che noi Andrò Utilizzare Allora Noi siamo Allora Per configurare L'orario Dunque Noi dove siamo Est Vediamo Pacifico Noi L'altra montagna Siamo Signor Metti Alasca Metti Alasca Nel dubbio Alasca Noi ci metto Questo Non me ne fai un cazzo Ok E le installazioni Dice proprio Fatte bene Esatto Poi voi volete I tecnicismi Che cazzo Cioè Alla fin fine È un installer Avanti avanti E via Avanti avanti e via Ma no Perché Non sono mica Su Windows Per fortuna Perché qua Se siamo cagati Un attimo in mano C'è un manuale Dai Vediamo un po' Sì sì Che è assai Che non rifacciamo Tutta l'installazione Da capo Perché lei fa Cos'è manuale Allora Facciamo le cose manuali Guardate qua Guardate Allora Qui possiamo mettere Perfettivamente guidato Però no Noi ci confidiamo Fare tutto manuale Sì Qua c'è una parte Di serietà Può contenere serietà Ecco Qui ci sono 53 gigi Scopriamo Quindi noi utilizziamo Questo Che abbiamo detto Che è free space Free space Faccio vedere come funziona Il suo inglese Signor Dennis Super è il mio Free space Non avrei saputo Dirlo meglio Gli devi selezionare Il free space Però Ok Eccolo qua Ricordiamo anche Che signor Dennis Accelua Ma qui c'è un franco bollo Nella finestra Scusami Allora Create a new partition Faccio vedere come funziona L'installer Anche per chi Non volesse fare Avanti avanti Allora Create a new partition Vai Mi pare pure giusto Signor Dennis Allora Partition size Io metterei Allora Qui quanta RAM abbiamo 3 giga Se non è ruotato 4 gigi 4 gigi Ok Quindi facciamo 53 Meno 4 49 Punto 7 15 e 18 Quanto fa Coglone 49 Punto 7 Che sono La partizione principale Questa qui La partizione Primary Io l'ho detto Che c'è un po' Di serietà In questo video Giusto Un tintino Allora Noi vogliamo Che lo inizi All'inizio Del disco Certo Scusa Prendiamo Nella fine Qualcosa Ok Qui facciamo Mount point Selezioniamo Root Avanti Lei mi è molto Professionale Però Siamo decadendo La cosa The root File system Esatto Questo Ok E' tutto E' tutto detto Di sì Credo che devi Creare una nuova Professionale Come bravo Sempre bravissimo Quattro gigi Mettiamo sempre Primary Mi piace Quattro gigi Però E' qua che è la Allora mount No Vorrei fare La swap Vediamo Un po' Se qui possiamo E' Metta la Mount option Anzi point Devi levare Home Credo che lo faccia Selezionare Ok Swap Ah qua Swap BBMBMBMBMesters Vediamo Non lo vede Allora Non sono solo Io che sono Ceco No Vabbè Io Aspetto il cane guida Ecco vabbè ce ne possiamo pure fregare dai facciamo la book forse potrebbe servire la protezione book dici è sempre done in realtà la protezione book di solito è 512 mega però noi siamo sempre accessivi andiamo allora che bello finish partition magic sicuramente esploderà tutto ovvio io già sono pronto a avviarle live esatto 13 minuti della mia vita così no siamo in sicurezza che tutto quanto va bene si è tutto in sicurezza tutto esplosivo si write the partition disk scriva scriva fonda tutto ecco per essere inclusivi guarda che velocità si vede che è basato su un mamma debian cioè è proprio roccioso granitico se vuoi dire no e più che altro è granita 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 vero abbiamo scoperto sta cosa che viene detto granitico perché c'è quel retro gusto di granita e poi ovviamente ragazzi ognuno usi quello che vuole però quando io poi c'ho gli estremismi ah no debian e niente più allora kali linux è una distribuzione particolare perché non utilizza i repo classici di debian quella che vedete out of the box ma utilizzano i loro e peraltro la cosa bella è che debian utilizza i repo quelli unstable di debian quindi vuol dire che che kali utilizza si scusatone kali utilizza i repo unstable di debian quindi vuol dire che avrete i software un po' più aggiornati rispetto al normale oggi è molto però sarà anche più instabile rispetto alla normale debian mettere una così vabbè certo non può essere granitica quanto mamma di me però non è non è una non ha comunque un aggiornamento software a livello di di arch arch è proprio a livello che c'è il software e c'è la nuova versione è subito disponibile nel repo ecco su su kali non è proprio così perché comunque c'è un bei poli ritardo ma a parte che poi secondo me kali linux non nasce a un uso desktop no e poi comunque c'è la dire che almeno non avrete la versione di software a livello di beta almeno quando apri gimp non c'è scritto isle world da qualche parte questo è un test ma almeno c'è la versione un po' più avanzata ecco e poi ci sono i driver per fortuna ci sono i driver li hanno messi si il calidino ha sempre avuto i driver quindi anche se avete una scheda di rete non dovete attaccare la chiavettina non dobbiamo fare il tethering l'hot spot esatto ho capito mi si sta aprendo un mondo allora qua direi di lasciare il mondo come sta va benissimo no vediamo un po' no no aspetta ma lasci fare lasci fare ma che cazzo fa dobbiamo decidere di tutto il mondo ho selezionato la base va benissimo xfce ma lei è sicuro se la base va bene perché magari i commenti ti dicono che xfce non è così aggiornato no no anzi xfce è uno dei più meglio di e che ci sia quindi va più che bene è a furor di popolo io non so parlare ma vai a vedere se la direi che ancora non è scoperto l'installer nonostante il nostro intervento professionale di protezionamento sicuramente nei commenti diranno che l'avrebbero fatto meglio ovvio mio cugino con 2 euro 2 euro e 50 al massimo ti faceva su un'installazione btrfs8 che neanche esiste che ti faceva un dual boot che c'è stesso il creatore di debbie e mi aveva detto eh ma che cosa per 2 euro e 50 ragazzi c'è vi lascio quando gli dai 3 euro no 3 euro c'è proprio ti aggiorna pure la scheda video comunque devo dire Calivino che è una distribuzione leggera ragazzi non è adatta a tutti ecco quindi non è che è una distribuzione da installare se volete guardare YouTube quello è eh penso che non nasca neanche per quello sinceramente infatti quando provo queste distribuzioni anche quando ho provato Ubuntu Predator l'ho detto cioè la comodità è che mi puoi fare un favore quando dici Ubuntu Predator mi puoi mettere un predatore come immagine tipo che scorre sullo schermo in orizzontale ma io se vuoi un dinosauro che lo scorre su bellissimo ma io se vuoi ti posso mettere pure un gattino che spunta all'improvviso cacchione so io un orsacchiotto un vecchio un Dennis Frittello tanto qua alla fine sono tutti frame gli amici epilettici non so come reagiranno però attenzione è esploso il mondo ah no ok ah è andato in stand by eh sì è perché è a basso consumo capito quindi non non stiamo lì ti immagini se dopo aver finito questa roba qui passa il boot errore nei boot perché la protezione è sbagliata allora mi stranizzerebbe perché abbiamo fatto un partizionamento perfetto cioè stesso Linux Torvald direbbe no 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 signori io ho visto tutto è da manuale cioè loro persino andate a dare più spazio alla partizione di boot dando 4 giga tondi tondi quindi con un conto matematico oltretutto senza calcolatrice addirittura neanche abbiamo usato le dita per fare il conteggio quindi proprio tutta mente ci siamo spremuti l'unico neurone che avevamo che salutiamo oltretutto perché cioè ci ha abbandonato da tempo oggi poi è un freddo martedì quindi vuoi vedere da questo video un primavera dell'anno prossimo quindi cazzo oggi ci sono vediamo un po' Alexa che di solito non l'ho dito mai Alexa eccola temperatura di oggi io avrei chiesto quella di che è che è morta 9 gradi celsius vediamo da me Alexa temperatura di oggi in questo momento la temperatura è di 19 gradi celsius ma mei coglioni Alexa stop non ti ho chiesto la tua vita 19 gradi dai dai io 9 gradi su 19 10 gradi in più facciamo una media ponderale 12 ho fatto sempre il conteggio così a occhio sì esatto occhio e croce a occhio e croce ma finirà sì finirà dai allora oggi è 28 novembre più 14 più 28 sì verso maggio mi sta chiamando un numero da Roma vediamo un po' un numero da Roma vediamo qualche call center ma risponda ci faccia sentire voglio capire che cazzo magari la gente dell'entrata che ha ascoltato il video che manca è stato caricato per il discorso della Svizzera aspetta un attimo tutti i discorsi gli algoritmi per il controllo il redditometro il quadro allora quando giochiamo sul Red Dead praticamente ci dovrebbero portare via con tutto lo stabile hai visto si scusano pure per il disturbo attenzione reboot ci stiamo emozionati aspetta ok vai running ma senti ma riavvia sta merda su aspetta aspetta che gli tiriamo via pure il lettore ottico ah no sta partendo signore allora se parte questa potete dichiararvi tutti ignoranti in materia perché abbiamo fatto un partizionamento che veramente devo fare il partizionamento alla cazzo però vedo come funziona allora sarebbe la prima ecco già con l'error mi dà affidamento error bis un tentativo di login ok vedi siamo fottuti non mi utendo perfetto allora aspetta a chi se ne frega vero? no ma io che cazzo ne so no ma io che cazzo ne so ma io che cazzo 1 2 3 4 almeno aspetta stop la registrazione aspetta 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 stop la registrazione no mutente ti prego mettine uno semplice non facciamo continuo la registrazione continuo la registrazione perché a noi piace allora vediamo che cazzo hai messo salta salta no anche cercare anzi aspetta perché io sono professionale community di allora stai zitto la community nome dominio ecco era qua no questo qua è il dominio ok ecco qua full name or the user rullo di tambura ea ti so anche pensare e cioè no perché certe caccate vanno partorite in un certo modo sfrugolatore ma va a cagare tu e sfrugolatore aia veramente guarda io pure che gli dico facciamo i video allora sfrugolatore 1 2 3 4 si funziona ma l'affanculo e grazie ecco ragazzi sono perfetta oh cioè non ci potete dire niente sei installato sei avviato al volo cioè proprio è fatto anche per noi umili mortali allora vabbè spondo bellerri io non lo commento neanche perché mi fa rovesciare e vabbè poi qua i vari tool direi che è uno spondo di lavoro cioè finalmente ne fai un cazzo bravo esattamente no io volevo capire come software center penso che utilizza un corso di distribuzione è l'unica cosa una cosa che si preoccupa lo spondo una cosa che si preoccupa è quanti soldi riceve lavorando secondo me esatto 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 allora io volevo capire per aggiungere eventualmente pacchettia che intendo ovviamente software io vorrei assemblare Nala quindi metti firefox addirittura firefox ed è presente apri firefox apri internet allora facciamo così perché mi sto incazzando leggermente ah perché poi c'era l'icona qua quindi faccia faccia signor Allora io volevo farvi vedere una cosa perché se noi apriamo il terminale mi apriamo il terminale adesso facciamo danno bravo ecco vedi era qua ma io che cazzo quindi è il il root si chiama ma io che cazzo sì anzi no scusami utente sfrucolatore e il computer l'hai chiamato ma io che cazzo adesso esatto ma io veramente non commento che è meglio io intanto cambio passo di root bravo 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 è cosa buona e giusta proprio l'altro questa c'è il qua è fatto bene non è bash no carina carina devo dire che si fa guardare quindi premiamo su però signor Dennis se vuole anche zoomare un pochino dovrebbe essere la fish la fish non lo so si dovrebbe essere la fish tieni una zoomata veda lei bravo ok allora se io faccio la pt il nome del computer va a letto cioè io esatto che cazzo ne so allora è lei che mi ha dato ogni desco quindi è colpa sua anche questo è vero signor giudice io a mia discolpa però devo dire che non mi divertivo così da tempo se posso dirlo vedete che non si capisce un cazzo di quello che c'è che c'è scritto si capisce però non è che sia molto ordinato ecco quindi adesso noi installiamo Nala che sarebbe l'amico cane Nala io stavo per dire un'altra cosa ma mi sono trattenuto allora facciamo Nala non re leone magari anche perché lì la disney entra poi a gamba tesa ciao bambini installiamo Nala no non siamo su quei due sul server carino anche l'attività di rete lì è tipo non lo so elettrocardiogramma quale ambulanze oggi c'è proprio a schiaffo secondo me ecco magari è scappato un elefante sta facendo spiccio spaccio con tutti i cittadini che stanno sotto le zampe ho capito ho capito ho capito tutto no? si si io capisco sempre tutto senior days non c'è alcun problema è un po' ok mentre che il senior days prova installare Nala comunque la ZSH fiscia secondo me come 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 console perché non mi ricordo ma senza ombra di dubbio non è quella di Debian che no non è quella la bin bash ecco sicuramente la sbocco bash diciamo ecco vabbè molto interessante Nala io vediamo un po' perché perché io se faccio secondo me vabbè mi apre un altro terminale non si capisce come tasca ma io che cazzo ne so ma se lei è cieco signor days dicono è colpa di nessuno giusto dovrebbe essere questo no era il dollaro ricordati che abbiamo la tastiera in americano che cazzo è il dollaro sempre nel 4 ma nel 6 ma che hai fatto allora ps-p perché qua non va vediamo un po' ma hai fatto è commerciale questo è cieco totale ma io non lo so ecco ok grazie mille ma prego 2000 non si preoccupi si la zsh zsh è la console fish ok finalmente siamo ricchi ora che lo sappiamo siamo ricchi allora vediamo un po' qui ci spiega ma cazzo installare Nala vediamo un po' Nala install non ce ne vediamo un cazzo installazione wiki wiki page lei che mi ama la documentazione posso scoprire la wiki page eeeh apt install Nala vedi semplicissimo vediamo un po' yes accetta tutto bye anche perché questa installazione ora la travasiamo sul mio disco la uso come distro principale non è vero mai nella vita la travasiamo è bellissima anche perché il zorino S non si batte cioè quindi adesso ne facciamo Nala update adesso noi questo qua è un wrap quindi vuol dire che lui richiama pt però dopodiché gli rifà un po' l'interfazio grafico quindi Nala update guarda come bello ma io ho il dubbio che questo venga utilizzato anche all'interno di endeavor OS o è mia impressione è probabile proviamo invece a fare che ne so se noi facciamo apt upgrade anzi apt list meno meno upgradable questo sarebbe il risultato che ci dà con apt se posso dire se noi lo facciamo con Nala utilizziamo Nala tutto un altro mangiare guarda qua bello qui c'è la versione corrente quella nuova ci dà tutte le informazioni questo è apt upgrade che sarebbe il comando per aggiornare va bene che non si capisce risolta un cazzo ma si è un muro di testo se noi metto utilizziamo Nala upgrade sì a parte che poi anche il il progresso lì in basso è molto più carino sembra dnf di fedora a parte che comunque è molto più chiaro pure la vecchia versione quella che andrà a installare i pacchetti in sé poi ti dice anche la grandezza dei pacchetti ti dice tutto devo dire che mi piace comunque anche la trasparenza del terminale stesso è gradevole perché dietro comunque c'è quel veno non vedo si vede cosa c'è dietro però comunque non ti dà fastidio quindi allora a parte gli scherzi non so quanto avete visto di questo video però devo dire che Kali Linux per come è organizzata male non è cioè si è una base Debian però comunque torna sempre lo stesso discorso quando ci sono aziende dietro perché nel sito ufficiale se hai dato uno sguardo c'è qualche azienda dietro questo progetto o anche c'è l'agenda di tutto c'è dietro per citarne una Amazon devo dire che il risultato si vede cioè poi vabbè voi mi tirate in ballo Linux Mint però io mi astengo da rispondervi perché c'è veramente per me Linux Mint sì è un bel progettino però ho portato male in avanti perché comunque ogni cosa aspettano cioè è da secoli che devono introdurre Wayland e ancora no ora vediamo o anche il distaccarsi da Ubuntu lo vuoi fare passa direttamente a base Debian perché ancora ritardi l'operazione buh comunque molto più gradevole Nala sotto questo punto di vista vabbè poi ti dice anche tutti i pacchetti che devono si rimuovono da soli cioè si devono rimuovere diciamo che è stravolto il terminale con un pacchetto solo alla fin fine sì ho fatto vedere come utilizzare apt perché di solito apt fa schifo poi lascia uno stadio apt-get che è ancora peggio quindi vabbè apt-get oramai ha fatto il tempo che ha fatto però l'unica cosa è che Nala vi faccio vedere questa ultima cosa mi dica mi dica per farvi capire un attimo Kali Linux come funziona è presente nel repo solo per Debian con i repo testing seed che sono quelli unstable infatti noi abbiamo fatto un'installazione direttamente facendo apt install Nala questo vuol dire che i repository utilizzati da Kali Linux non sono quelli Debian stabili rocciosi e quant'altro sono quelli instabili quindi voglio che sono quelli super aggiornati però che non controllano essenzialmente se sono bug o altro quindi siccome non c'è questo controllo gli aggiornamenti sono un po' più fluidi non c'è quel tappo la bottiglia che esiste quindi questo quindi tu mi dicevi che per installare programmi sostanzialmente non c'è un software center quindi dobbiamo andare sempre a manina chi diciamo che chi utilizza queste istruzioni si dà per assoluto siccome deve fare più in testing che sappia almeno installare un cazzo il programma ovviamente cosa vabbè anche questo è vero anche se però poi viene utilizzata questa distribuzione da chi vuole fare semplicemente il figo posso fare dei test e scorre però bisogna anche studiare c'è chi utilizza queste istruzioni prima fa di solito l'università dei corsi fa degli studi avanzati non è che una settimana col cugino impara a utilizzare le stule dipende ogni tool di questi richiede richiede conoscere come funziona la rete come funzionano i protocolli come funzionano le connessioni le interconnessioni senza ombra di dubbio dico ora io tendo a scherzare però ragazzi guardate quante categorie ci sono e soprattutto la complessità comunque di ogni tool l'unica cosa comoda è averli già tutti con categorie quindi già sai bene o male a cosa si riferiscono e come detto per ubuntu predator non devi andare a ricercarli e installarli hai già una base direttamente prendi a parte infatti nel loro sito dicono proprio questo cioè è una distribuzione che per chi è già dentro al settore dell'hacking come si dice etico sicurezza informatica sicurezza informatica o anche come si dice non mi viene mai il termine per l'ingenializzazione del software reversing reversing engineering esatto e praticamente già trovi il terreno fertile perché è già pronta per quel discorso poi qua praticamente ci sono le applicazioni per gli esseri umani ve la mettono qua nella categoria internet grafica che poi c'è proprio lo stretto indispensabile pacchettini normalissimi screenshot task manager eccetera e poi la maggior parte sono roba del terminale però vabbè ti fai il richiamo da là anche il task manager molto probabilmente ah no è quello di xfc almeno qua la cui grafica c'è e poi vabbè c'è la predisposizione già di 4D xstop diciamo che comunque c'è gtop come perché noi siamo sempre abituati ad utilizzare vi faccio scoprire un'altra roba vediamo un po' mi dica mi dica noi siamo ad utilizzare questo però noi facciamo su 1 2 3 4 ma comunque l'aspetto è migliorato notevolmente noi utilizziamo sempre di solito c'è o top che sarebbe il task manager che non è malvagio vabbè dai rispetto a tanti altri dico poi htop è l'evoluzione di questo ok l'evoluzione di questo ah vedi che è carino ti dicevo non hai installato vuoi installarlo sì noi però usiamo un'ala così facciamo un po' come funziona quindi un'ala noi abbiamo un'ala avrei usato Simba però abbiamo un'ala anche top vediamo un po' come va no però ora dico scherzi a parte nulla a che vedere con apt cioè ha un aspetto molto più gradevole vabbè sì questo sostanzialmente è top con la grafica colorata più funzioni sotto cioè dico alla fin fine non è che cambia chissà che cosa pure c'è anche gtop quindi facendo ma sai che forse gtop una volta l'abbiamo usato insieme vediamo un po' se c'è gtop mi sa che servono i repo probabilmente scopriamolo così facciamo anche vedere come si fa a usare le cose senza software center ma per esempio sto sito che ti vedo digitare google.com ma che è cioè non l'ho mai sentito ma sì ma che cos'è cioè non mi è nuovo cioè io cercavo le cose su facebook in genere scopriamolo questa la dovevo dire da lontano 2015 ma ho trovato il coraggio solo ora capito mettiamo Debian ora onestamente ragazzi cioè quante persone conoscete magari voi stessi che cercate su facebook le informazioni le notizie e anche banalmente come installare qualcosa io io ne conosco un sacco perché su facebook non l'hai letto perché su facebook non l'hai trovato cioè la barra di ricerca di facebook infatti sta iniziando a integrare ricerche esterne all'interno di facebook mamma mia proprio per venire incontro a questi non voglio dire parolacce però insomma portatori sani 104 forse il termine giusto è quello vediamo un po' se raggi top non mi ricordo più eh può essere che ti ricordi male probabile mi sa di sì mi sa che mi ricordo male io mi ricordo top htop e poi ce n'era un altro che mi sfugge che era una specie sempre di htop però non mi ricordo sì però era migliorato era non mi ricordo vabbè scusa mi metti alternative a htop vediamo che dice 5 alternative bravissimo segna questi qua a zara facebook vedi 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 aspetta chiudiamo un paio di pubblicità allora c'è a top che è il più meglio poi c'è vtop eh vtop forse sai vabbè che poi vtop ricorda un po' htop sostanzialmente vtop plus plus che è più meglio assai e poi c'è glens forse era questo anche se mi sono proviamo no proviamo vtop plus plus dai vediamo un po' vtop vediamo se c'è già mala che siamo golosi e poi nulla ragazzi questo è Kali Linux noi abbiamo cercato di ridere e scherzare però comunque sostanzialmente sbagliato vedete che qua ci corregge eh vabbè logico sostanzialmente una distro basata su tutti i tool possibili immaginabili come anche Ubuntu Predator sostanzialmente siamo lì anzi ne comprende pure forse qualcuno in più perché andava a pescare magari possiamo fare dei video su come funzionano alcuni tool per esempio sulle testing delle mail potremmo fare alcuni video riguardo più tecnici se vi interessa magari però dovete anche questa è un'idea anche questa è un'idea andare a approfondire io avrei un po' di tool farvi vedere volendo però dovete eccolo qua ma vedete che bello devo dire che è bello e nulla ragazzi io vi ringrazio anche interagire con il mouse dopo questa perla signor Dennis io l'autorizzo a piallare la distribuzione no no perché la usiamo la prossima volta in questa serie ok allora mi appunterò il nome utente esatto adesso appunto il nome utente anzi useremo per fare per fare un po' di video magari la sicurezza questa di wordpress che wordpress fa schifo vi faccio vedere il perché dovrebbe essere anche una roba bella anche per questo può essere può essere avere un'idea in modo costruttivo però ragazzi non per far danno al prossimo perché è una cosa che non approviamo totalmente nulla io ringrazio il signor Dennis per le risate cioè io ragazzi non ridevo così veramente da tempo non so quanto avete visto ma lei mi deve invitarci spesso è questo il suo problema lei mi invita vabbè io cerco di amarginare perché lei è gelosa il suo canile il suo canale scusi sbagliato sbagliato il termine lei è invidioso vabbè io sono geloso dei miei 6.000 iscritti e quindi poi le insegnano nei commenti tutto le insegnano che Ubuntu e Linux Mint è più meglio il resto non esiste esatto sono i neofitti di Linux che sono sempre 50 anni ormai saranno anche 60 anni sono da 30 anni che sono neofitti di Linux e niente ragazzi con il signor Dennis secondo me è giunto a conclusione avventate io vi saluto vi ringrazio per aver visto questo video ringrazio ancora il signor Dennis che con tutto ciò resta sempre veramente un mito passatemi questo termine e noi ci vediamo al prossimo video su Cari Linux sono a Sega io ci vediamo ciao 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 Step 1, wake up early gon' rise in the sun Step 2, get some good, some food in you Step 3, think real hard about what you wanna be Step 4, f*** everybody just do your thing Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day